Antonino Spinalbese nello sponsorizzare un brand di costumi decide di mostrare il suo lato B. Niente male, si potrebbe sicuramente dire, e sicuramente lo scatto postato su Instagram è stato apprezzato da molte e da molti. Insomma, l'ex concorrente del grande fratello VIP non teme davvero l'obiettivo fotografico e si lancia in questo scatto che potremmo definire HOT. Aspettiamo le prossime foto allora, eh? Avrà fatto bene? Avrà fatto male? Boh! Ciao! 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 Grazie a tutti.